L'Africa è bella nonostante lo scandalo della convivenza tra ricchezza e povertà o una vergogna per l'umanità in tutto il mondo. In una fredda ma soleggiata piazza San Pietro, in occasione dell'udienza generale, Papa Francesco si è soffermato sul suo recente viaggio internazionale in Kenya, Uganda e Repubblica Centrafricana. Ai fideli presenti ha ricordato come il Kenya rappresenti bene la sfida globale della nostra epoca, tutelare il creato riformando il modello di sviluppo perché sia equo, inclusivo e sostenibile. Dopo aver fatto memoria della tragica morte lo scorso 2 aprile dei giovani dell'Università di Garissa barbaramente uccisi solo perché cristiani, il Pontefice ha poi rivolto lo sguardo all'Uganda dove si è recato in occasione dei 50 anni della canonizzazione dei martiri del paese. Una testimonianza di fedeltà al Vangelo che oggi trova espressione nel servizio dei catechisti, nella carità di tante comunità e associazioni al servizio dei poveri, dei disabili, degli ammalati, nei giovani che malgrado le difficoltà custodiscono il dono della speranza e cercano di vivere secondo il Vangelo e non secondo il mondo, andando controcorrente. Infine la terza tappa del viaggio, la Repubblica Centrafricana che sta cercando di uscire da un periodo di conflitti violenti e dove Papa Bergoglio ha voluto aprire a Bangui con una settimana di anticipo la prima porta santa del Giubileo della Misericordia. Abbraccio il Pontefice ha infine ricordato i tanti missionari che hanno deciso di portare nel mondo la testimonianza di un amore che non delude e ha chiesto ai giovani di fare delle scelte coraggiose. È il momento di pensare e chiedere al Signore che ti faccia sentire la sua volontà, ma non escludere, per favore, questa possibilità di diventare missionario per portare l'amore, l'umanità, la fede in altri paesi. Non per fare proselitismo, no. Quello fanno quelli che cercano un'altra cosa. La fede si predica prima con la testimonianza e poi con la parola, lentamente.